E ciao a tutti amici, sono sempre io Gold e benvenuti in questo nuovo episodio di Space Engine in serie Survival Allora gente, nello scorso episodio, che tra parentesi è stato trasmesso in live, abbiamo assaltato l'avamposto di osservazione Sono successe parecchie cose strane in quell'episodio, devo essere sincero, da una nave che scende per dare supporto all'avamposto All'avamposto che ci spara, ci danneggia il carro, a io che schianto l'elicottero Adesso come potete vedere l'elicottero è di nuovo lì perché l'ho ristampato Un'altra cosa perché ovviamente poi ho dovuto chiudere la live perché il server era crashato leggermente E quindi nel ritorno cos'è che ho deciso bene di fare? Ho deciso di spaccare la motrice che stava portando Bene male tutto il nostro loot, però ce l'ho fatta poi Tutto il loot è stato all'interno di 4 container 2 che erano qua e 2 che sono andato poi a riprendere una volta stampato l'elicottero Ci ho messo un'ora e un quarto circa per rifare tutto ma è andata bene Cosa facciamo oggi? Oggi per fortuna ci spostiamo un attimo dalla fabbrica In realtà all'inizio passeremo tanto tempo alla fabbrica e poi ci sposteremo dalla fabbrica Proprio perché dobbiamo iniziare ad andare avanti Ebbene oggi ci occupiamo della costruzione della centrale elettrica Vi ricordo che la zona per la possibile centrale elettrica sarà 3 km da qua In realtà probabilmente andremo anche un po' oltre Perché ho deciso che non mi serve esattamente stare troppo vicino qua Quindi magari vedremo poi una volta in zona come gestircela Allora un'altra cosa che ho fatto è stata prendere il blueprint della motrice nuova Perché non ce l'avevo Adesso quindi devo mettere su un proiettore per poterla risistemare E poi in realtà andremo a costruire due nuovi veicoli Che mi serviranno per poter appunto iniziare il processo di costruzione della fabbrica Allora un'altra cosa vi ricordo che oggi faremo Scusate ho detto fabbrica ma in realtà intendevo la centrale elettrica E appunto vi dicevo oggi inizieremo con la centrale elettrica Prossimo episodio teoricamente faremo la fabbrica Così ci togliamo quei due punti saldi e possiamo iniziare a vivere una vita tranquilla Ok iniziamo con le riparazioni In realtà aveva preso dei colpi molto peggiori di questi Però ho fatto delle riparazioni sul campo e sono riuscito a risistemare alcune cose Ad esempio la batteria Ok Ok in realtà adesso devono salire le ruote Penso che abbia costruito tutto E abbiamo riparato E abbiamo fatto Quindi adesso i giunti devono andare di nuovo a 30 gradi come massimo Perfetto Ed è riparato tutto Spegniti Ok un problema in meno Adesso invece dobbiamo andare a costruire altri due veicoli Allora uno penso che non riuscirà No entrambi probabilmente non riusciranno a passare nella linea di produzione Perché questa linea di produzione è pensata per piccoli veicoli I due veicoli per i quali vi rimando al video di giovedì invece che uscirà Sono uno un veicolo per trasporto pesante E l'altro invece un veicolo per trasporto gas Rispettivamente un trasporto pesante appunto per i materiali e un autobotte Li vedrete appunto Non vi preoccupate Li vedrete nel video dell'officina di giovedì Allora E ci siamo Penso di poter iniziare a saldare Ok gente Preparatevi Oh wow Ok tra poco arriverà la parte interessante Ecco qua Ha stampato tutto Quasi Aggiungi ruota Oh benissimo Che bello quando le cose funzionano Fatto Bello stampare le cose così al volo Ok proiettore Per favore spegniti Anzi rimuove il progetto Benissimo E allora questo veicolo è pronto Lo andiamo subito a mettere a ricaricare A mettere a ricaricare Scusate Gli facciamo fare un carico di ghiaccio O idrogeno Sì penso di sì Gli facciamo fare questi due carichi Almeno Ok Mi casa ha spaccato qualcosa No ok Gli facciamo fare i due carichi Così nel mentre che stampiamo poi l'altro Lui si ricarica Serbatoio carburante 1 e 2 In magazzina E si stanno riempiendo Benissimo Così facciamo un bel carico di idrogeno Si stanno riempiendo velocissimi Adesso Prossimo veicolo Questo è un po' più grande Un po' tanto più grande Ok Let's go Ok Contrario Bellissimo Sono già partiti anche i motori Per qualche ragione Costruito tutto Si Ok Va bene E questo qua era l'ultimo blocco Devo un attimo salire sopra Proprio qua sopra Per mettere un'altra scala In realtà devo anche togliere questa Perché la scala dovrebbe essere Oh fuck La scala dovrebbe essere giusto Decorativa Ah Quasi quasi così è anche meglio Ok Bene Risolto Piano Vabbè che tanto questo ha 5 ruote per parte Quindi Ok allora Stato fatto tutto Dobbiamo prima far uscire l'altro di veicolo Un momento Oh mio dio Te più di così non scendi E quindi Devo prendere tipo le ruote frontali E alzarle Si Così funziona Ok allora Fatemi fare un attimo Mente locale I nostri Serbatoi sono pieni Perfetto Quindi adesso i motori Possono funzionare Ok E penso che sia tutto Ci possiamo staccare Quindi Stiamo uscendo dalla base Siamo pronti giusto? Si Siamo pronti Possiamo muoverci penso Beh Fermi Devo prima fare il carico Nel veicolo da trasporto Se no che cosa faccio Abbiamo 15 anni di autonomia Magari metto le batterie in ricarica Ok Ci siamo Adesso possiamo staccarci E resettare l'altezza Ok Altezza resettata Benissimo Io partirei Partirei assolutamente Andiamo Ok Questa zona qua Non è malaccio Me la sto pensando già con Un'ipotetica pista D'atterraggio E tutto Quindi Non mi sembra male Ok Ci saranno però Da abbattere un po' di alberi Ok Allora Qua avremo l'entrata Per Il nostro Per la nostra struttura Ovviamente sarà Un po' grande Però sarà principalmente L'entrata qua Ok Allora Adesso sto facendo l'entrata Che mi servirà giusto Per farmi un'idea Di dove posizionare tutto Porta Quindi questa qua Sarà la porta Come vi dicevo Non sarà grandissima Come struttura Però sarà molto sviluppata Sottoterra Sottoterra Nel terreno Non sottoterra Scusate Se vi ricordate Un po' come abbiamo fatto All'abb elettrico Cioè che abbiamo fatto Una struttura Dove le batterie Erano sviluppate Praticamente nel terreno Ah Una cosa Che ci tengo a ricordarvi Adesso Praticamente Una volta che La fabbrica Sarà costruita La centrale elettrica Sarà costruita Tutte le altre piccole miniere Che abbiamo costruito In giro Verranno smantellate Perché Non serviranno più Anche perché Non sono effettivamente Il metodo più efficace Di estrarre materiali È molto laborioso Bisogna sempre costruire Delle strutture Quindi Quello che faremo Sarà Smantellarle pian piano E ad un certo punto Iniziare a costruire Tutte delle miniere A cielo aperto Quindi di nuovo Si farà poi Una missione di Prospettazione Qua attorno E a quel punto Si vedrà effettivamente Come Dove estrarre Tutti i materiali Ok E adesso Dobbiamo chiudere Il tetto Per chiuderlo Voglio fare Una cosa particolare Non utilizzando Le porte Vero? No ok Voglio fare Una cosa alternata Fare dei pilastri Portanti Come questi L'uomo di tramezze Ok Benissimo Quindi qua è fatto In realtà Qua chiudo Ma non dovrei Chiudere Diciamo che può essere Facilmente poi Sistemata La situazione Poi in caso Vi spiego Il motivo Vabbè Ve lo spiego Non vedo perché Non dovrei spiegarvelo Praticamente Questa zona qua Dovrà essere Espandibile Questo significa Che a un qualsiasi punto Io posso fare Un buco nel muro E ripetere esattamente La stessa struttura Ma adesso Adesso siamo ancora Nelle fasi Proprio iniziali Quindi non vi preoccupate Allora Finestra Voglio fare Anche le finestre Perché penso Che siano Abbastanza belle E soprattutto Diano Un bel po' Di luce Ok Fantastico Quindi la nostra Struttura iniziale C'è Possiamo fare qualcosa Di carino qua Sì Obblò Però a questo punto Te non sei più bello Da vedere E quindi Ti sostituiamo Chiave Governo ladro Qua ci sarà Probabilmente Un'anticamera Magari una zona Dove possiamo Ricaricarci l'energia Penso Sto cercando un attimo Di immaginarmela Ok Quindi Poi qua Eventualmente Ci sarà un survival kit Tutto quello Che dovrà esserci Per ora Questa qua Sarà giusto Un'anticamera Il grosso Inizia da questa parte Allora Quindi noi Entreremo di qua Cosa che ci troveremo Ci troveremo Di fronte Una zona Un po' più bassa Quindi sì Devo togliere Praticamente tutto Ciò che ho fatto prima Non vi preoccupate Tutto normale Ok E adesso Dobbiamo scavare ancora Perché dobbiamo Scendere di Penso Due Livelli ancora Penso Ok Ok Saldato tutto Ovviamente Ci sono ancora Alcuni pezzi Che vanno rimossi Ok Tipo qua Benissimo Quindi Qua sotto Come vi dicevo Ci saranno i nostri motori Ora Piazziamo subito i motori Allora Andiamo con i trasportatori Come potete immaginare I trasportatori ci servono Principalmente Per poi collegare I motori Ma se tutto va bene Non si vedranno Cioè almeno Questi qua no Gli altri sì Ok Fatto Adesso è il momento Invece dei trasportatori A tubo Quindi Così Tubo di acciaio piccoli Benissimo Ok Fantastico Bene Allora Adesso invece è il momento Di fare questa parte qua Dove invece ci saranno I generatori di ossigeno Poi questa parte Va rimossa di nuovo tutta Perché dobbiamo Togliere anche qua Il pavimento Vediamo se posso fare Intanto Questo lavoro Ed eccoci qua Questo qua è il Progetto Teoricamente Per Questa zona Vediamo se riesco A farlo un po' più carino Oh ce l'ho fatta Servono Travi 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 Va bene Travi e tubi di acciaio piccoli Ok risolto Risolto Perché Mi serve Poter scendere qua sotto Come potete immaginare Perché Ovviamente Mi serve Scendere qua sotto Perché ci devo lavorare A tal proposito Devo andare a prendere Ancora un po' di lastre Per finire le pareti E poi possiamo mettere I generatori A noi non interessa Com'è che sono Cioè non ci interessa Accedere Da qua sotto No comunque Questo anche deve essere Al contrario Ok Perché vogliamo vedere Se stanno funzionando o no Quindi devono essere Rispettivamente girati Uno E due Ok Ok fantastico Noi però qua sopra Ci dobbiamo passare Quindi A questo punto Metterei tipo delle passerelle Giusto perché si Facciamo così Guardate Mancano Travi e tubi di acciaio piccoli Bene Ecco sapete cosa ci possiamo mettere Anche qua fuori Una zona per la diagnostica Così che possiamo vedere Tutte le informazioni Della griglia Tipo l'output energetico Sapete Le solite cose Ok E quindi Di qua ci siamo Abbiamo fatto La prima parte Che è quella appunto Dell'output diretto Cos'altro dobbiamo fare Allora Dobbiamo fare Una zona per le batterie Che potremmo fare Nella zona dopo Appunto Oppure Beh no Ci manca poi La zona batterie Sicuramente Una zona per lo stoccaggio Del gas Saranno Servatovi piccoli Poi vediamo La parte esterna Quindi La torre solare Possiamo evitarla Al momento Per ora La possiamo anche evitare Vediamo cos'altro E tutte le zone Per l'arrivo dei veicoli Quelle lì principalmente Allora Per la zona batterie Andrei di qua Andiamo così proprio Guardate Perché almeno Diamo un senso All'esistenza Di questa scala Benissimo Quindi adesso Devo togliere Giusto la parte Qua di soffitto Per mettere Il mezzo blocco E poi ci siamo La stanza per le batterie È fatta Mancherà poi L'illuminazione Dappertutto Ma quella ci va Due minuti A farla Se non di meno Ok Computer Lastre Ok Servono parecchie cose Sì Non ho niente Praticamente Va bene Mi libero l'inventario E faccio tutto Tutti i viaggi necessari Per fare le batterie Ok Allora Ho fatto per Tutte le batterie Tranne che una Perché Non avevo abbastanza Celle Ma fa niente La prossima volta Che vengo Posso sistemarla Qua mi si è spento Il Sì Qua mi si è spento Per qualche ragione Ok Però mi si sono caricate Tutte Le batterie Ho finito il ghiaccio Ho finito tutto il ghiaccio Quanto ho ancora Di ossigeno Ok Sono ancora Al 100% Vabbè ma nessun problema Non avrò problemi Con l'ossigeno Lo riempio da qua Allora Adesso la base È energia Voglio evitare Che si spenga Tutto Quindi off Allora Prossima cosa Da fare Tolta l'illuminazione Appunto Allora Dobbiamo fare Lo stoccaggio Per i gas Lo stoccaggio Per i gas Assolutamente Stoccaggio Per i gas Beh oddio La logica vorrebbe Che lo facessimo Molto vicino Da qua Ok allora Adesso Per lo stoccaggio Dei gas Invece Per lo stoccaggio Dei gas Andremo Oltre in questa zona Quindi mi serviranno Un po' di lastre Ma penso che Semplicemente Togliendo i muri Ne farò abbastanza Benissimo E quindi abbiamo fatto Qua non mi piace La porta La mettiamo al contrario Perché se no Stona con il blocco Ok E il terreno Di questa zona È stato pulito Poi tanto Dovrò ribucare Un attimo Il Il pavimento Magari Qua più o meno Perché dovrò fare Il raccordo Per i gas Ok Preferisco così Uno Due E Questi qua no Perfetto Stavo cercando Un modo Per ottimizzare Il posizionamento Servono pannelli Ok Ultimo viaggio Da quattro tubi D'acciaio grandi Quattro E il resto Saranno lastre Lastre Mi serviranno Per chiudere Il soffitto Invece Ok Bene 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 Molto bene Allora Vediamo un po' Il soffitto Lo chiudiamo Invece in maniera Diversa Facendo questo Perfetto E anche la sala Del Dei gas Per lo stoccaggio Dei gas È a posto Ok Benissimo Vediamo Sto pensando Cos'altro mi servirebbe Teoricamente All'interno Intendo Perché se io adesso Mettessi del ghiaccio Là dentro Dovrebbe partire tutto Giusto Proviamo Eh no Non ho ghiaccio Cazzurico Proviamo Ok Allora la parte esterna E poi questa parte interna E l'ottimizzazione Allora parte esterna Partiamo con La possibilità Di far scaricare Ai Ai veicoli Ok Fantastico Quindi abbiamo fatto I supporti Abbiamo fatto la piattaforma Quello che dobbiamo fare adesso È il sistema di Di scarico Mi è venuta in mente Un'idea Malsana Cioè di mettere Due connettori Uno Qua ad esempio Che è connettore Così Per la parte sotto È standard Questo si mette Perché non si sa mai Cosa che potrò Sviluppare Quindi Connettore Sperando che non dia Poi fastidio All'entrata No non penso Wow Sono bassissimo Con le lastre Mentre l'altro Si potrebbe fare Qua In questo modo O ancora meglio Qua Sarebbe bello però Fare una cosa Guardate Mettere tipo Un pistone Con una cerniera E lo spinge In fuori Ok Allora Trasportatori Vediamo di terminare La linea Ok Quindi qua È collegato Ah devo mettere anche I container Buffer Container buffer Eccolo qua Griglia metallica E schermo Per il resto Dovrei aver tutto Mi servono pannelli Da interni Ok Nessun problema Non ci credo Componenti ricostruzione Undici Undici componenti Ricostruzione Ma vi pare Visto che a questo punto La posso anche staccare Ok Nessun danno Vero? Mi sono preso un colpo Per un attimo Però sappiatelo Cerniera Sei a meno Sessantaquattro Giusto? Allora Io ti dico Che il tuo limite Superiore è zero Io ti dico Di andare a Meno 5 Vai a 5 Ok Mi hai spaccato Il connettore Ma ti perdono Per questo Per quale motivo Questo connettore Da sti problemi? Aia Ok Forse forse Ho abbastanza lastre Giusto per finire il progetto Stai buono Queste cose Le ultime lastre Che ho Poi Per forza Mi devo ritirare E considerare Finito Ok Quindi Pistone Riesci a rientrare? Paura di no Oh no Ok Forse Forse ho un Un modo per risolvere Allora Prima di tutto Il pistone Deve salire di molto meno Pistone Deve salire di 2.5 metri Inverti E vediamo fin dove arriva Ok Non va bene ancora Magari facciamo 4 metri Ok Perché la cerniera Deve avere abbastanza Spazio per girare No Quindi 5 metri Pistone 5 metri Cerniera Qual è la tua parte positiva Quella negativa Ok Devi andare da 0 A meno 90 Cerniera Quindi il tuo limite inferiore Sarà meno 90 Bene Così abbiamo il docking Perfetto Ora Se faccio Così Dovrei risolvere Il problema Del Connettore E posso anche Far Posso giocarmela Un po' così Per risolvere Gli altri problemi Vabbè Te qua ti chiudo così E te qua ti si chiuderà poi Ok Così abbiamo finito Ok Quindi la centrale elettrica potrebbe entrare in funzione Devo fare l'illuminazione E la parte centrale qua Allora Purtroppo penso di non avere abbastanza tempo adesso Quindi tutti questi piccoli dettagli Me li faccio off camera Quindi questa qua è la nostra centrale elettrica Ovviamente è da finire Penso che appunto farò questi progressi off camera oppure in live Perché non mi dispiacerebbe effettivamente trattarli anche in live Quindi a questo punto io termino qua Mi dispiace se non sono riuscito a terminare effettivamente il lavoro Ma Ahimè Purtroppo ho terminato il tempo ed è già da due ore e mezza che sto registrando Vi ringrazio davvero tantissimo per avermi seguito Vi invito a lasciare un bel mi piace e un commento dicendomi cosa ne pensate di questo video Come al solito se avete dei consigli lasciatemi qua sotto nei commenti Soprattutto adesso che siamo all'inizio di questa costruzione Ogni tipo di feedback è molto apprezzato Io vi ringrazio ancora per la visione Sono Gold e noi ci vediamo con i prossimi video Bye bye Ciao 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 Ciao